Sarebbe ritrovati con l'informazione del Tg Blu in apertura. Torniamo a parlare dell'incendio di via Castelluccio perché questa mattina le fiamme sono state definitivamente spente. Intanto ieri è proseguita l'attività di monitoraggio ambientale di campionamento dell'Arpa Puglia. I tecnici del centro regionale area insieme ai funzionari del Dipartimento Provinciale di Foggia di Arpa Puglia hanno effettuato rilevazioni in area nei centri abitati di Ascoli, Satriano e Ordona e nella zona intermedia nelle aree che in base alla direzione del vento risultano direttamente sotto vento rispetto ai fumi derivanti dall'incendio. Le misure hanno fornito risultati costantemente bassi con valori non superiori tanto da far ritenere sostanzialmente non significativo l'apporto delle emissioni dell'incendio rispetto alla qualità dell'aria in queste zone. Naturalmente l'amministrazione comunale così come i tecnici dell'Arpa hanno lasciato intendere che i rilevamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Cambiamo argomento e parliamo di estate perché saranno presentati nei prossimi giorni nuovi servizi predisposti dalla ASL per l'estate e noi abbiamo avuto qualche anticipazione direttamente dal direttore generale dell'ASL Vito Piazzolla che abbiamo intervistato. L'estate è ormai alle porte e con l'estate arrivano purtroppo anche problemi. L'ASL si sta muovendo come sempre in questa direzione? Sì, allora vi do un appuntamento, una novità che non sa neanche la nostra portavoce. Il 30 noi faremo una conferenza stampa e presentiamo come abbiamo fatto negli altri anni il nostro progetto di emergenza estate. Abbiamo oggi incontro tutti gli operatori, hanno già lavorato su questo piano di emergenza urgenza, adesso sono nella parte pratica. Incontro anche tutti i nostri interlocutori, diciamo anche esterni, che ci danno una mano per mettere in piedi una macchina diciamo importante perché come sapete abbiamo non solo il problema orografico che ci mette in difficoltà, ma poi abbiamo anche per fortuna un impatto estivo con i turisti che ci fa piacere ovviamente, ma ci impone anche dei problemi. E allora l'elicottero, rimetteremo l'elicottero a Vieste per quattro mesi. Abbiamo fatto anche un'ipotesi di deroga alla rete dell'emergenza urgenza e quindi sperimentalmente metteremo un'ambulanza in più tra Vieste e Vico, ma diciamo stanziale a Vieste. Proviamo a incrementare anche un po' di altre cose su altri siti dove abbiamo dei problemi. non ultimo insomma tutta la fascia che va verso i laghi insomma e adesso senza stare a precisare, ma insomma ci stiamo lavorando per dare un'offerta più ampia e quindi per tentare di arginare anche le criticità. Sta di fatto, questo lo voglio dire, che se però attraverso una serie di accorgimenti di prevenzione noi non dovessimo fare neanche un volo con l'elicottero, fare neanche un trasporto di emergenza, e questo ci farebbe piacere. Cioè nel senso che l'emergenza urgenza è qualcosa che uno deve pensare, deve lasciare, perché ogni vita umana non ha prezzo, però si augura di non doverle usare mai, no? Ad è stato molto sgomento l'improvvisa scomparsa di Roberto Paolucci, storica figura del socialismo pugliese. Paolucci era nato a Lucera dove aveva iniziato giovanissimo la sua militanza politica nel partito di Craxi, del quale fu fino all'ultimo un convinto sostenitore. Nel suo percorso politico occupò ruoli di prestigio e di primissimo piano, sino a rivestire il ruolo di assessore regionale all'urbanistica nel governo della Regione Puglia. Il nostro editore e l'intera redazione si associano al dolore dei familiari ed esprimono un sentimento di sincero cordoglio per un uomo che lascia un segno indelebile di cittadinanza attiva perennemente spesa a tutela delle giovani generazioni del mezzogiorno. Cambiamo argomento, questo pomeriggio a partire dalle 18 in Viale 24 maggio a Foggia prenderà il Via Foggia che viale la manifestazione promossa dalla ConfCommercio, evento sociale e culturale che prevede la riapertura di cinque negozi sfitti per trasformarli in preziosi palcoscenici dove si esibiranno rappresentanti del mondo culturale e dell'associazionismo foggiano, un modo per tornare a vivere quello che un tempo era il salotto della città. La ConfCommercio di Foggia riapre i negozi storici di quello che era un tempo il salotto della città. Foggia che viale questo pomeriggio dalle 18 alle 22. Siamo andati a chiedere cosa ne pensano i residenti e i commercianti della zona. Fanno bene comunque perché l'economia locale può svilupparsi anche perché così mandiamo avanti la società. Sì, è giusto che vengano fatte queste manifestazioni perché diciamo che questo viale è un po' abbandonato, c'è un po' di degrado e quindi anche per la gente che viene dalla stazione vedere questo viale un po' abbandonato, un po' messo male, sedili, la strada, insomma, c'è qualche marciapiede da rifare, insomma, non è bello. Anche per noi che ci lavoriamo, insomma. E quindi si spera che da oggi questo possa cambiare? Speriamo sì, sì, sì. Speriamo che queste manifestazioni aiutino, ossia aiutino a far crescere un po' l'ambiente. Però, ripeto, secondo me sono anche altre cose che bisogna fare oltre a queste cose qua. Che ne pensa dell'idea di riaprire il viale per un giorno? Lo vedete che ormai è arrivato uno stato di degrado, di abbandonato. Le autorità comunali devono anche intervenire pesantemente per questa questione. I negozi sono soltanto stranieri, i foggiano non ci stanno più, nemmeno gli italiani. Come facciamo? Si può vivere un 100 cittadini in questa maniera? Penso di no. Che sia di successo, almeno penso che è una questione favorevole per tutti, insomma. Nel senso di rianimare un po' l'ambiente, il viale e la stazione, che noi stiamo sempre arretrati rispetto a altre zone della città. Quindi, se si cerca di valorizzare il viale, la stazione, va meglio per tutti, anche per l'ambiente, per l'abitato. Salotto della città che torna a rivivere? Il salotto della città lo era e lo continua ad essere, soltanto che c'è una forma di empatizzazione e di estrema demonizzazione che esiste nei confronti di questo viale. C'è molta premeditazione e noi cerchiamo, attraverso queste attività, di cercare un po' di smentire, di sminuire, perché la realtà, il problema esiste, quello che in effetti è questa premeditazione esistente nei confronti di questo viale. Adesso parliamo di giornalismo e di giornalisti, perché si è chiuso oggi il Festival della Ricerca e dell'Innovazione dell'Università di Foggia. La giornata di oggi è stata dedicata proprio ai giornalisti che sono stati uccisi per il loro lavoro. Tra gli ospiti di oggi è anche Andrea Purgatori, giornalista molto conosciuto e che ha legato il suo nome soprattutto grazie ad alcuni reportaggi importanti, come quello della strage di Ustica. L'intervista. È davvero così difficile raccontare le storie e fare il giornalista? Beh, può essere molto difficile se hai di fronte dei poteri molto forti che preferiscono non essere raccontati, non essere interpretati e quindi diciamo sì, in questo paese poi i giornalisti sono considerati molto male, a volte ha ragione, e però comunque diciamo vengono immaginati soltanto come un po' delle cinghie di trasmissione che devono solo mettere insieme i fatti che accadono senza occuparsi di capirne troppo. Molti giornalisti hanno pagato con la propria vita il proprio lavoro, l'amore per la verità. Ne valeva la pena e ne vale ancora la pena? Ma penso che insomma siano state delle testimonianze importanti, altrettanto importanti quanto quelle di magistrati, poliziotti, insomma ciascuno ha fatto il proprio lavoro e io credo che comunque un paese dove ci sono stati almeno 12-15 giornalisti uccisi dalle mafie è un paese dove insomma l'informazione forse un ruolo l'ha svolto perché sennò questa gente non avrebbe pagato con la vita. Allora dobbiamo, io penso diciamo ricordarli e ricordarci che questi sacrifici sono sacrifici che ci hanno portato qualcosa. In Italia c'è censura? In Italia c'è autocensura, non c'è la censura, non c'è neanche bisogno di arrivare alla censura. Io insomma sono 40 anni che faccio questo lavoro, ho visto solo casi di autocensura. Quindi diciamo il problema di rendere ai giornalisti la libertà e la coscienza della libertà e quindi la possibilità di lavorare senza condizionamenti è la cosa fondamentale perché si superi l'autocensura. E adesso parliamo di trasporti perché nel nuovo orario di Trenitalia non appare alcun collegamento delle 5.23 da Foggia a Roma. Una delusione che coinvolge l'intera capitanata tra cui anche esponenti di enti locali. Deludente notizia aggiunta qualche giorno fa ai cittadini della provincia di Foggia, protagonisti indiscussi della grande illusione chiamata Treno Foggia-Roma. Delusione che coinvolge anche alcuni enti locali come la Camera di Commercio di Foggia. Non avrebbe alcuna giustificazione, commenta il Presidente Porreca, a privare di un servizio così essenziale circa un milione di pugliesi residenti nel nord della regione. Mentre il primo cittadino di Foggia, Franco Landella, dichiara occorre, come nei mesi scorsi ho provato in vana a suggerire al Sindaco di Bari De Caro, una visione di sistema coordinata che abbia come orizzonte non il soddisfacimento di questo o quel campanilismo, ma viceversa la crescita complessiva della Puglia nella sua interezza. Fino a qualche giorno fa si gioiva per un ipotetico treno che collegava Foggia-Roma. Tale notizia è stata lanciata da alcuni politici locali, i quali, a detta loro, avrebbero sentito i vertici di Trenitalia per avere conferme del nuovo collegamento. Tutto è stato riportato, orario di partenza e orario di arrivo. Se a dirlo sono stati rappresentanti politici, con tanto di dettaglio, perché non crederci? Verrebbe da dire cittadini, ma due giorni fa Trenitalia Puglia ha ufficializzato i nuovi orari, ma a vedere bene nessuna novità riguarda Foggia. Anzi, i nuovi collegamenti si riferiscono solamente a Bari e le località turistiche del sud regione. C'è solo da analizzare, ed è ancora in fase di programmazione, se i nuovi collegamenti da Bari faranno tappa nella Batte e anche alla stazione di Foggia. Ed è proprio su questo che il primo cittadino di Foggia chiede che venga coinvolta anche la Capitanata, richiesta che l'Andella fa direttamente l'assessore regionale trasporti Giannini e i rappresentanti foggiani dalla regione, Raffaele Piemontese e Lodi Gioia. Parte dai social, la campagna a non voltare la testa dall'altra parte del free magazine Seidonna. La redazione dell'unico mensile di genere della Puglia, su input dell'editore Franco Di Gemma della Pubblicentro, in occasione della terza edizione del premio Seidonna, ha condotto un esperimento sociale realizzato grazie anche alla collaborazione della Questura di Foggia per indagare il modo in cui la collettività reagisce dinanzi alla violenza di genere, sia essa verbale o fisica. Noi abbiamo intervistato il direttore del Free Press, Maria Grazia Frisaldi. Ma ragazza, Seidonna, il Free Press mensile che dirigi, ha fatto un esperimento, un esperimento sociale, ha finto un litigio, piuttosto che un'aggressione di un fidanzato ad una fidanzata. In pieno centro, a Foggia, orario di mattina, come è andata? Si tratta di un esperimento sociale che abbiamo lanciato in anteprima durante la serata del nostro premio Seidonna, che quest'anno è giunto alla terza edizione. Il nostro obiettivo era proprio quello di fare un piccolo esperimento sociale, anche per verificare il lavoro che è stato svolto dal nostro mensile, un Free Press di genere che dedica particolare attenzione a questo tipo di tematiche, ovvero la lotta alla violenza sulle donne. L'idea era proprio quella di mettere in scena un momento di violenza che fosse sia verbale che fisica che psicologica nei confronti di un uomo e di una donna. Questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Questura di Foggia, che ha autorizzato il progetto, e alla sensibilità dimostrata da due attori del Teatro della Polvere di Foggia, Carlo Baldassini e Mariangela Conte, che si sono esposti anche al loro rischio e pericolo a fare questa piccola candid camera con telecamere nascoste. Purtroppo quello che è venuto fuori è una sorta di assuefazione alla violenza. Abbiamo notato una sorta di disinteresse, soprattutto da parte dei più giovani. La cosa che fa più male è constatare che non c'è stato nemmeno l'interesse o l'attenzione, la sensibilità a chiamare un numero del pronto intervento, che fosse il 112 o il 113. Nessuno è intervenuto all'impiazza, però quando avete pubblicato il video su Facebook, sui social, ci sono stati molti commenti. Sì, positivi e negativi in realtà, nel senso che poi l'esperimento forse non è stato accolto appieno da tutti quanti. Ovviamente il nostro obiettivo non è assolutamente quello di mettere un'etichetta sulla città, un'etichetta negativa, tra l'altro Foggia ha già tanti problemi e noi non vogliamo aggiungerne altri. Ne cercavamo eroi, perché non volevamo assolutamente mettere persone in difficoltà o comunque in pericolo. Il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le persone, di non voltare la testa dall'altra parte e magari allontanarsi un attimo e chiamare il numero di pronto intervento. Sarebbe stato sicuramente di grande aiuto. E adesso parliamo di dolci, perché è nato a Cerignola il Cerilmielbrick, il cioccolatino che unisce Italia e Polonia. Il dolce è stato realizzato dalla seconda classe dell'Istituto Comprensivo Carducci Paolillo del centro Ofantino. È nato il Cerilmielbrick, il cioccolatino che unisce Italia e Polonia, prodotto finale del progetto Etwinning Cioccolarte, è realizzato dagli alunni della seconda dell'Istituto Comprensivo Carducci Paolillo di Cerignola, insieme allo chef Tommaso Perrucci. Divisi in gruppi, gli studenti hanno raccolto informazioni sulla nascita del cioccolato e le sue caratteristiche relative al proprio paese. Hanno conosciuto e approfondito la storia del cibo degli dei, le tradizioni alle quali è legato. Le alunni hanno poi seguito anche incontri in cioccolateria guidati allo chef Tommaso Perrucci, per la scelta degli incredenti che si fondessero con le tradizioni gastronomiche dell'Italia e della Polonia e per la realizzazione e produzione del cioccolatino. La barretta Cerilmielbrick, si legge nella confezione del dolce, è nata per unire idealmente, culturalmente e gastronomicamente Polonia e Italia. Il nome sta a indicare la pausa dolce che unisce Cerignola ed Emelien, le due città in cui si trovano le scuole gemellate per il progetto Cioccolarte. La barretta presenta all'esterno cioccolato alla mandrola con un ripieno di ganascia, cioccolato bianco, miele e frutti di bosco. L'interno racchiude i colori della bandiera polacca, il bianco del cioccolato e il rosso dei frutti di bosco, ma richiama anche un dolce polacco impastato con miele e frutti di bosco, dei quali è la Polonia il secondo paese produttore in Europa. L'esterno è costituito dal cioccolato alla mandrola presente all'Italia, specialmente nella nostra Puglia. Il Cerignola in break può essere degustato accompagnato da una arzata fresca o latte di mandorla. Con questo cioccolatino gli alunni della secondaria dell'Istituto Comprensivo Carducci Paolillo hanno voluto maggiori loro coetanei polacchi, unendo nei colori e nei sapori i rispettivi luoghi del cuore, annullando dunque qualsiasi differenza. Sarà trasmessa domani alle 14.45 al termine della rubrica Reprint Palermo chiama Italia la manifestazione che si è tenuta il 23 maggio a Foggia per ricordare il 25esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, in cui hanno perso la vita i magistrati Falcone e Borsellino. Una manifestazione a cui hanno preso parte, vedete, queste immagini numerose scolaresche del Foggiano. La produzione video è stata realizzata all'Esterna 1 di Teleblu, dunque appuntamento domani alle 14.45 sulla nostra emittente. Ed è andata in onda ieri sera alle 21, la decima puntata di Piazza Social, condotta da Felice Sblendorio. Ospite alla prima parte è stato il cantante di Torremaggiore Osvaldo Supino, star del pop internazionale, l'uscita con il suo nuovo album Resolution. Nella seconda parte invece è un talk dedicato al turismo della regione Puglia e della Capitanata, oltre le polemiche di Flavio Briatore. Ospiti del talk, Vincenzo Ottaviano del Ristorante Al Trabucco, Damimin, Michele Simone del Charming Puglia, Villa Simone, Giuseppe Beccia dell'ACT, Monti Dauni, l'Associazione Culturale e Turistica e la giornalista del Quotiano d'Attacco, Antonella Soccio. Bene, è davvero tutto per questa edizione, vi ricordo che tutte le notizie, i nostri servizi e il nostro Tg lo potrete seguire sul nostro sito teleblu.tv, sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina di Youtube. Grazie di averci seguito, buon fine settimana a tutti voi, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.